Se ancora in cerca di soluzione il problema della scuola di capostrada e la sistemazione dei bambini a seguito della sua chiusura per ragioni di sicurezza sembra essere verso una positiva conclusione l'altra storica situazione critica della scuola pistoiese, quella dell'istituto Cino. Nella nuova graduatoria regionale per accedere, mutui bei per la ristrutturazione, la scuola è balzata grazie al progetto definitivo presentato dal comune di Pistoia dal 377 posto al nono, dando così concrete possibilità di finanziamento statale alla creazione di nuovi spazi al posto del prefabbricato chiuso nel 2014 causando lo spostamento delle classi terze alle Roncalli. Due mesi fa abbiamo fatto un inserimento di un nuovo progetto, di un definitivo, su cui hanno lavorato i nostri uffici dell'edilizia scolastica in collaborazione con il centro di architettura Abita. Quindi insieme all'università abbiamo fatto questo progetto cercando di sfruttare e di utilizzare tutte le tecnologie più moderne. Quindi un progetto innovativo che si basa su tutte le innovazioni non solo nazionali ma anche internazionali e questo ci ha permesso di balzare in alto al nono posto. Quindi è stato un bel risultato. Noi aspettiamo ora di capire quanto verrà finanziato dallo Stato. Essendo nella nona posizione, anno scorso sono stati finanziati i primi 22 posti. Quindi se noi rientriamo nel finanziamento entro l'anno, altrimenti dovremmo aspettare la prossima graduatoria. Però nel frattempo noi, per non rischiare di scendere di graduatoria ma anzi di salire ancora più in alto, stiamo lavorando sul progetto esecutivo. Quindi si passerà dal definitivo all'esecutivo, dopodiché il progetto è totalmente cantierabile. Dal costo di 4 milioni di euro il nuovo plesso previsto al posto di quello attuale in cemento amianto sarà indipendente dal punto di vista energetico e si svilupperà su tre livelli arrivando ad ospitare 18 aule. Possono essere aule tradizionali però possono essere anche convertite in laboratori. 18 alle consideriamo che quelle spostate di là presso le roncali sono 8. Quindi questa scuola permetterà anche di essere una scuola polmone, cioè nel caso potessero avvenire delle situazioni come quelle che si sono verificate in questi giorni. Questo può essere uno spazio utilizzato proprio per accogliere momentaneamente situazioni in cui si deve poi recuperare una scuola. Quindi diciamo la scelta di fare il numero di aule più elevate è stata proprio per permettere alla città di avere uno spazio polmone. Dico inoltre che la struttura che è stata scelta e la tipologia è quella per moduli per cui si possono aumentare le aule quindi è uno spazio pensato anche per il futuro.